... 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 Mi ha chiamato Giancarlo perché tu metti l'aglia perché stavano mettendo la parola di più. Dai Matti! Vai Matti! Diretti non li prendono due. Vai Matti, vai! Mattia, battalo fuori! Ora, ora, ora! Fuori, fuori, fuori! Fuori, fuori! Mattia, credici! Vai Mattia! Vai Mattia! Dovete controlla! Vai Mattia! Dai Matti! Vai Mattia! Vai Matti! Vai Mattia! Vai Matti! Rosso, 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 vince il secondo round, l'attrano rosso fino al terzo round. Dai Matti! Bravo Matti! Dai Matti! Dai Matti! Vai Matti! Dai 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 Matti! Grazie! Eis Matti! hicchi! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì!